Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Cava dei Tirreni ha recentemente incontrato con una sua delegazione l'Arcivescovo di Cava Amalfi, il Monsignore Orazio Soricelli, per la presentazione del progetto sportivo formativo intitolato Le Parrocchia di La Parrocchia Scende in Campo, che è stato condiviso dal prelato soprattutto per le sue finalità, in particolare quella di provare a restituire alla parrocchia il ruolo di agenzia formativa che l'era riconosciuto dalla società civile soprattutto in passato. L'idea prevede un corso per operatore sportivo parrocchiale e un'iniziativa sportiva con l'effettuazione delle parrocchiadi, progetto che coinvolge le parrocchie della diocesi, ma i dettagli sono spiegati da Pasquale Scarlino nella sua qualità di dirigente CSI. Progetto che giaceva nel cassetto già da tempo, prima della pandemia, con la benedizione di sua eccellenza, con queste parrocchiadi, ma soprattutto anche con un corso per operatori sportivi parrocchiali. In effetti noi l'abbiamo denominata La Parrocchia Scende in Campo. Dopodiché, ovvio per tanti motivi, non siamo riusciti a poter portarlo avanti. Adesso, grazie a Dio, almeno si spera che la situazione si vada a normalizzare, siamo ritornati, tra virgolette, alla carica con sua eccellenza, il quale ci aspettava. Ho sentito anche vari parroci, a cui mi ho sentito grazie, che le loro attività vanno, però delle volte incontrano difficoltà proprio a trovare del personale che possa indirizzarlo anche all'attività sportiva. Vediamo tanti campi scuola organizzati veramente dalle parrocchie, però alcuni parroci denotano proprio questa assenza di queste figure. Quindi noi, in questa ottica, vogliamo aiutare, ma soprattutto renderci disponibili a questo incontro formativo, che grazie a Dio, anche grazie, si può dire, a questa nuova tecnologia, cioè a questo nuovo modo di poter, si farà parte in remoto e parte in presenza. L'attività c'è, però ci vuole qualcosa in più, quella marcia in più, per far sì che gli oratori diventano quelli che sono stati per il passato. Intanto appuntamento al 23 ottobre per il pellegrinaggio verso il santuario di Pompei, con la benedizione filiale dello stesso Monsignor Soricelli ai partecipanti. Il ritrovo a Cava, in Piazza Duomo, sarà alle 5, la Santa Messa a Pompei alle ore 11. Questo proprio in virtù e nell'ottica di questa nostra visione e in questo nostro avvicinamento a quello che sono le problematiche della Chiesa. Per quanto riguarda le altre attività, noi, grazie a Dio, speriamo, continuiamo a riprendere tutte le attività. Domenica inizia la Coppa Città di Cava con 11 squadre ai nastri di partenza, la pallavolo a giorni inizia, così come la ginnastica. Insomma, diciamo e speriamo che tutto si possa risolvere nel miglior modo possibile e possiamo continuare la nostra attività. Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Cava dei Tirreni ha recentemente incontrato con una sua delegazione l'Arcivescovo di Cava Amalfi, il Monsignore Orazio Soricelli, per la presentazione del progetto sportivo formativo intitolato Le Parrocchiadi. La parrocchia scende in campo, che è stato condiviso dal prelato soprattutto per le sue finalità, in particolare quella di provare a restituire alla parrocchia il ruolo di agenzia formativa che lei era riconosciuto dalla società civile soprattutto in passato. L'idea prevede un corso per operatore sportivo parrocchiale e un'iniziativa sportiva con l'effettuazione delle parrocchiadi, progetto che coinvolge le parrocchie della diocesi, ma i dettagli sono spiegati da Pasquale Scarlino nella sua qualità di dirigente CSI. Progetto che giaceva nel cassetto già da tempo, prima della pandemia, con la benedizione di sua eccellenza, con queste parrocchiali, ma soprattutto anche con un corso per operatori sportivi parrocchiali. In effetti noi l'abbiamo denominata la parrocchia scende in campo. Dopodiché, ovvio per tanti motivi, non siamo riusciti a poter portarlo avanti. Adesso, grazie a Dio, almeno si spera che la situazione si vada a normalizzare, siamo ritornati, tra virgolette, alla carica con sua eccellenza, il quale ci aspettava. Ho sentito anche vari parroci, a cui va il mio sentito grazie, che le loro attività vanno, però delle volte incontrano difficoltà proprio a trovare del personale che possa indirizzarlo anche all'attività sportiva. Vediamo tanti campi scuola organizzati veramente dalle parrocchie, però alcuni parroci denotano proprio questa assenza di queste figure. Quindi noi, in questa ottica, vogliamo aiutare, ma soprattutto renderci disponibili a questo incontro formativo, che grazie a Dio, anche grazie, si può dire, a questa nuova tecnologia, cioè a questo nuovo modo di poter, si farà parte in remoto e parte in presenza. L'attività c'è, però ci vuole qualcosa in più, quella marcia in più, per far sì che gli oratori diventano quelli che sono stati per il passato. Intanto appuntamento al 23 ottobre per il pellegrinaggio verso il santuario di Pompei, con la benedizione filiale dello stesso Monsignor Soricelli ai partecipanti. Il ritrovo a Cava, in Piazza Duomo, sarà alle 5, la Santa Messa a Pompei alle ore 11. Questo proprio in virtù e nell'ottica di questa nostra visione e di questo nostro avvicinamento a quelle che sono le problematiche della Chiesa. Per quanto riguarda le altre attività, noi, grazie a Dio, speriamo, continuiamo a riprendere tutte le attività. Domenica inizia la Coppa Città di Cava con 11 squadre ai nastri di partenza, la palla a volo a giorni inizia, così come la ginnastica. Insomma, diciamo e speriamo che tutto si possa risolvere nel miglior modo possibile e possiamo continuare la nostra attività.